Come riprendersi una settimana intera se già la prima sera, dopo uno spettacolo meraviglioso di Salvatore Salvatutti, il telefono ha deciso di sua spontanea volontà di non filmare. Stiamo partendo, tra poco partiamo. Prima tappa. Catania. Siamo nel treno con il signore Salvatore Salvatutti per la mezzia terme. Siamo appena partiti da Catania e niente, c'è mio padre che invece sta partendo dalla Campania e ci incontreremo alla stazione di fila mezzia terme. Stanchi, morti, distrutti. Come se avessimo fatto Siracusa a Versa, in realtà invece siamo solo alla mezzia terme centrale. Stiamo aspettando con tanto entusiasmo, anche se non si vede, stiamo aspettando mio padre che arriva e che è stato praticamente un'ora imbottigliato nel traffico di Cosenza. Siamo praticamente delirando e blatterando, ecco, senza un reale motivo. Blatterando, c'era una blatta là. C'era una blatta, un pappapane, sembrava tipo un lottatore di sumo, la blatta lottatore di sumo, comunque ragazzi, scusate, sto divagando. Musica 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 Dal villaggio turistico di Cropani, la signorina Sandy Lisa sta pronta per farsi la doccia, scusate. Vediamo, vediamo, vai. Guarda la doccia. Eccola qua, guardate come scorre l'acqua. Brava, bravissima. Uuuuuh. Vacci piano, così è spreco però eh. Tu sei ambientalista. Ya. Va bene così? Possiamo chiudere questa farsa? Ciao. . Grazie a tutti 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 Noi ci siamo divertiti tantissimo Ma tutto l'ha fatto l'animazione Perché se non c'era l'animazione giusta Un villaggio valeva l'altro Giusto? Noi ci fanno divertire Sono stati il nostro Francesco, Adriano, Taddo, Tony Love con la sua meravigliosa Taff Dance Tarzanelli Più tamarri, più tamarri, più tamarri, più tamarri Damian che mi ha fatto ballare, che bello, non ballavo tanto tempo, una salta E io spero che questo viaggio insieme a noi vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale e mi piace qua sotto Ciao!